non ho ancora alcuni lavori non manca un bel lavoro ragazzi il magio sta finendo e quindi aspettatevi ho uno speciale facendo un ottimo lavoro e sto andando bene a scuola ho portato la terapia anche e quindi al liceo alla mia scuola al liceo sono stata al don Lorenzo Milano lì ci sarà una festa aspettate come la mia scuola la mia scuola è un'ocuola , Sto finendo l'anno scolastico Assicuratevi Per ringraziare questa bella cosa Il mio canale è Daniel Wade Non dimenticate Che sono a 3 minuti di registrazione E ci vediamo al prossimo video